Si è insediato ufficialmente il Consiglio Comunale dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Sapri. Presso l'Aula Consigliare della Città della Spigolatrice si è tenuta la proclamazione dei nuovi eletti con in testa il nuovo sindaco Alessandro D'Amico e la sua squadra, composta da Daniel Lavaiano, Thomas Brandi, Mattia D'Ambrosio, Chiara Depatta e Sofia Giffoni. Un progetto portato avanti dall'Istituto Scolastico Saprese da ormai diversi anni, precisamente dal 2018 quando la dirigente scolastica e i docenti hanno deciso di far avvicinare i propri studenti alla vita pubblica e ai principi costituzionali e così ogni due anni il Consiglio dei Ragazzi viene rinnovato con grandi riscontri e partecipazione da parte dei giovani allievi. Tutto si svolge proprio come avviene per gli adulti, presentazione e accettazione delle liste, comizi, campagna elettorale e poi le votazioni aperte per gli studenti dalla seconda alla quinta elementare dell'Istituto. Durante l'ultima seduta del Comune di Sapri la proclamazione dunque del nuovo Consiglio dei Ragazzi dove ha preso la parola anche il giovane sindaco D'Amico. Siamo solo dei ragazzi delle ragazze, lo sappiamo, e non vogliamo evitare gli adulti che hanno il compito di guidarci in questa esperienza e nella vita, ma vogliamo che la nostra parola abbia un piaccio e questa è la nostra più grande caffina. Cercherò di sensibilizzare i miei compagni rispetto della legalità e delle regole di convivenza civile e non trattare gli argomenti come bullismo e cose brutte come queste.